Le parole del Santo Padre È doloroso ricordare che, in questo momento, ci sono molti cristiani che patiscono persecuzioni in varie zone del mondo e dobbiamo sperare e pregare che quanto prima la loro tribolazione sia fermata. Sono tanti, i martiri di oggi sono più dei martiri dei primi secoli. Esprimiamo a questi fratelli e sorelle la nostra vicinanza. Siamo un unico corpo e questi cristiani sono le membra sanguinanti del corpo di Cristo che è la Chiesa. Parole di Papa Francesco tratte dall'udienza generale del 29 aprile 2020.